Every day it's getting closer, going faster than a rollercoaster, love like yours will surely come my way. Bevilo quando vuoi, ma non rinunciare mai al tuo Yakult quotidiano e ai suoi miliardi di lactobacilli casei scirota che favoriscono l'equilibrio della tua flora intestinale. Yakult. Ogni giorno, un buongiorno. Grazie a tutti.